Si è aperta con la Domenica delle Palme la serie di appuntamenti religiosi della Settimana Santa, forzatamente a porte chiuse. Anche in questa Settimana Santa, come dall'inizio, le provvedimenti di isolamento sociale, le celebrazioni promosse dalla Diocesi di Gubbio saranno trasmesse in diretta su TRG, Canale 11, dalla Cattedrale, secondo un nutrito programma. Stasera, per il Giovedì Santo, si è tenuta la Messa della Cena del Signore dalla Cattedrale, ufficiata dal Vescovo di Gubbio, Paolo Cibelini. Celebrazione in cui è stata omessa la lavanda dei piedi e la processione finale con la reposizione dell'Eucaristia. Domani, per il Venerdì Santo, come ormai noto, è stata annullata la tradizionale processione del Cristo morto. La celebrazione ecclesiastica è fissata alle 15.30, sempre dalla Cattedrale, con l'azione liturgica della Passione del Signore, a cura del Vescovo Paolo Cibelini. Nel momento dell'adorazione della croce si ometterà il bacio come segno di venerazione. La processione tornerà virtualmente, proprio su TRG, a partire dalle 19.15, proprio nella stessa ora tradizionale della storica cerimonia, che tradizionalmente attraversa le vie del centro storico di Gubbio in un'atmosfera altamente suggestiva. In serata, sempre su TRG, dalle 21.15 andrà in onda uno speciale montaggio della processione del Cristo morto, con la proposizione dell'intera sequenza audio del rito, a partire dal suono delle battistrangole, all'esecuzione completa del miserere, eseguito dai due cori maschili e dal coro femminile, con la conclusione affidata al tradizionale battifondo. Un montaggio video con le immagini degli anni scorsi consentiranno al pubblico di seguire la suggestiva rappresentazione. Al termine andrà in replica la liturgia, svoltasi nel pomeriggio stesso in Cattedrale. Quindi la veglia pasquale del sabato santo in Cattedrale inizierà alle 21.30, semplificando al massimo la liturgia e anch'essa sarà trasmessa in diretta su TRG.